Rovigo situazione parcheggi cosa cambieresti allora probabilmente in questo momento storico farei in modo che molti più parcheggi siano liberi o almeno a fasce orarie perché so che molta gente fa fatica insomma a trovare a trovare parcheggio in certe situazioni io non penso ci sia un grosso problema di parcheggi in generale perché comunque una città piccola e forse sarebbe il caso anche di provare a spingere di più sui trasporti pubblici però sicuramente come dicevo prima ci sono determinate situazioni in cui c'è bisogno di avere parcheggi più fruibili ecco diciamo così in generale tutto qua. Allora magari cambierei un po' le tariffe orarie perché per esempio anche il parcheggio al multipiano relativamente è un po' caro per la città in sé e metterei magari anche qualche abbonamento magari mensile un po' più per i cittadini un po' più agevole anche soprattutto per i lavoratori oltre che parcheggi un po' più ampi riservati ai lavoratori in centro. Allora la situazione di parcheggio a Rovigo è un po' drastica nel senso che comunque per potersi avvicinare al centro qualche parcheggio c'è tipo in multipiano però poi insomma non riesce a superire secondo me a tutto quanto il bisogno. Adesso poi che faranno anche qui davanti al Duomo la zona pedonale nuova andremo a togliere anche questi piccoli parcheggetti che comunque a pagamento però permettevano di avvicinarci al centro e comunque insomma di essere abbastanza comodi. Bisognerebbe individuare magari qualche area che magari c'è anche a disposizione e cercare di incrementare un po' quelli che possono essere i posti auto vicini al centro per permettere alla gente di venire in tranquillità. insomma ecco. Poi per il resto fortunatamente hanno comunque dato una mano limitando gli orari perché comunque anche qui in centro dalle 6 in poi mi sembra insomma sono liberi quindi un po' questo incentiva il fatto di venire in centro però qualche parcheggio in più insomma non sarebbe male. La situazione in parcheggio soprattutto per il centro storico è disastrosa. Parlo da residenti in pieno centro e anche da commerciante con un'attività in pieno centro storico bisognerebbe creare degli spazi molto grandi centrali con dei parcheggi preferibilmente anche gratuiti ma adesso non chiediamo troppo e quindi trovare delle zone magari in disuso ecco da ristrutturare e da dibire a fare tanti nuovi parcheggi. grazie Grazie a tutti.